Guarda mi sono incastrato in mezzo tra due E' impossibile Perché mi è saltato all'indietro Salta Calma Calmi tutti qui Calmi tutti Non è possibile Ti prego Perché siamo qui Vattene sei paura Uccidi che torna indietro Non posso tornare indietro E ragazzi come va io sono Fere Niki E io sono Stef E oggi siamo qui con una mappa di parkour Molto particolare Perché si avremo solo 25 vite Per riuscire a completarla Fere in realtà non ti ho detto una cosa Cosa? Cosa che non mi hai detto ancora? Che il gioco ce ne impone 25 Ma io voglio giocare a completare la mappa con solo 5 vite Fere Sì sì stai zitto e non fare il presuntuoso Fere qua sarei il primo a morire No non sarò il primo a morire Sì 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 Allora Vai Ma il primo salto come lo fai? Uno alla volta oppure tutti? Così Così E così Perfetto E salta proprio in modo strano Eh bisogna abituarsi un po' Si 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 mette tipo con la schiena Come cavolo fai? Non lo so Allora qua non dobbiamo toccare questi quadratini Quindi per ora è abbastanza semplice Guarda qua Vabbè qui sì Andiamo avanti Andiamo avanti Ok qua bisogna quindi stare attenti a non cadere in acqua Ok perfetto Dai per adesso mi sembra abbastanza tranquilla come mappa di parkour Eh fate che mette ansia a avere le vite contate Eh lo so Certo Ti fa sbagliare cose che normalmente non sbaglieresti Quindi è solo quella la cosa strana Lo so Fere lo so Infatti bisogna restare assolutamente concentrati e cercare di fare il meglio possibile Però dai qua bisogna soltanto correre dritti Sì sì È quasi Questo è sempre Ok qua c'è un pezzo difficile Ok Arriva 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 Allora è tutto storto Come faccio? Come me la gestisco? Facciamo tipo Ta Ok 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 Fa venire un po' di paura Ti aspetto Oh mamma no Non lo voglio fare Dai forza Dai 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 Ok brava Ok Perfetto Mi lancio Ok ottimo Ok Ottimo Perfetto Attento a non andare nel blu che ovviamente è massa Sì ovvio Checkpoint numero 3 Perfetto Ottimo Siamo a 3 di 30 Dai Siamo vicini alla fine Ok Oh mamma mia Parkour nel ghiaccio sto speso in aria I parkour Perché io volevo fare una mappa tranquilla di Roblox Se tu mi fai fare queste cose Non ne facevamo una da un sacco Appunto ed ero felice così Ero felicissima Ma non è vero che ti mancavano tantissimo No per niente Lo dici solo tu Forza dai per ora hai perso solo una vita Stai andando benissimo Quindi non ti lamentare che siamo troppo bravi Forza forza Bene ma che si sono pure in salita Ma dai Oh mamma mia Io li odio questi Ok Ci stiamo di nuovo Ma quanto dobbiamo scalare in alto Non è possibile Non lo so Ok 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 Andiamo 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 Ma che andiamo andiamo Dai Ferre forza che ci sei quasi Brava Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Continuiamo a scalare Stiamo andando in altissimo E te lo dico Good luck Grazie Grazie Ok Checkpoint numero 5 E adesso dobbiamo andare in mezzo all'acqua Ma sai che io ho provato questa mappa Ok Per vedere se mi piaceva Però io non mi ricordo questi livelli Quindi Ah No Ho saltato troppo Steph Perché sto ascoltando le tue F serie Sulle mappe che provi Ma che mi interessa No per un'altra vita è andata via Ti odio Non è possibile Adesso ogni 23 che un mio numero fare Ti porterà sfiga Te lo dico Il 23 porta sempre sfiga Tu porti sfiga Esatto Tu e basta Porti sfiga Ah qui non l'avevo vista Credo che dobbiamo salire di qui Non lo so Non l'avevo neanche vista Decisamente sì E dicevi che i livelli erano diversi Secondo me Allora O sto soffrendo di gravi problemi di perdita di memoria Che può essere O erano diversi Perché Io non ricordo di aver fatto tutte queste cose Non lo so Io l'unico livello che ricordo è un livello dove saltavi sopra degli alberi Perché mi è piaciuto molto E quindi me lo ricordo Ma magari cambia Se c'è quello È la stessa mappa Altrimenti è cambiata la mappa Va bene Non è che È un test Che magari Ogni volta che entro ci sono dei livelli diversi Non lo so fare Ah no gli alberi Eccoli Vedi 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 che ci sono Ok allora Semplicemente non ricordavo più quello che ho fatto Esatto ok Che bravo che sono Ok Checkpoint numero 6 Praticamente Questo è un livello bellissimo Non appena superiamo questa linea nera Non possiamo più toccare terra Quindi dobbiamo Dovremmo essere esperti Nel non dover toccare terra Con le florislava Con le florislava Siamo davvero esperti Quindi praticamente Ora saltiamo sugli alberi E cerchiamo di trovare il percorso giusto Per arrivare dall'altra parte Saltando tra gli alberi È una figata questo Ok Sei pronta Aspetta però Non facciamoci cadere Vai tu Vai tu Vai tu Vado in questo Sì ok E avanza avanza Di albero in albero Ok verso quella parte Esatto Perfetto Così direi no Sì 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 Considera che in certi momenti Si allarga la strada E quindi rischi di sbagliare Ok Di conseguenza Cerca di capire un po' Verso dove vai E che strada è Anche perché ce ne sono più semplici E più difficili Oh cavolo Tipo questo è un rischio inutile Esatto Torna indietro Torna indietro dai Dici Sì 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 È troppo lungo È troppo rischioso Ok Poi qua Poi qua Perfetto Sì 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 È decisamente più giusto Sì sì è questa Qui 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 Guarda quanto è lunga la strada Che ti fa fare È lunghissima Che cattiveria Oh yes Ancora tutte le vite per Steph Ok Però siamo solo a 7 livelli di 30 Quindi è ancora tostissima Sì la voglia Guarda Ferre Hanno messo anche la lava Più o meno Più o meno Sembra marmellata Sembra un po' marmellata Marmellata la fragola Esatto Andiamo va Adesso E adesso corriamo Ferre mi perdoni No Mi ha spinto nella marmellata assassina L'ho fatto apposta Scusami E quindi una vita in meno per colpa di Steph Dai quella non la contiamo Va bene Ti spingo io Ferre devo completare tutto senza morire mai Non mi spingere No adesso dovrei morire Perché mi hai fatto arrabbiare Ferre Cercherò di fare tutto Guarda quanto siamo in alto Perderò tutte le mie vite per farti morire Dai smettila Muoviti Vai Qua De Florislava sta degenerando abbastanza Sta diventando abbastanza pericolosa la marmellata Mamma mia ho rischiato tantissimo Muoviti Ferre mi stai distraendo Io non ti parlo più Mi stai mettendo una pressione che non merito Esatto te lo meriti Ferre Perché non c'era bisogno di spingermi nella marmellata Ma non l'ho fatta apposta Lo sai Eh no tu fai sempre tutto apposta Ma quando mai Dai rimezza le scatole mentre saltavo No rimezzo tu Vai muoviti Allora Ta Ta Oh mamma mia Io sto rischiando di morire tutto il tempo Eh lo so è difficile Finché sento delle ostilità dietro di me Non riesco a riconcentrarmi Continua a sentire allora Continua a sentire Dai Ferre mi stai mettendo una difficoltà in più nella mappa Così impari Già è difficile Tanto non hai detto che 25 vite sono tante Te ne bastano 5 Quindi fattele bastare Ma io ne voglio solo una Ne voglio solo una Ferre Voglio riuscire Che cos'è? Aspetta sto salendo Che cosa c'è? Aspetta Ferre c'è un punto di domanda Dice bonus Eh Aspetta che vado? No Ferre Uh Ferre Che succede? È un livello bonus È stata un'idea terribile Ferre No dai facciamolo No noi siamo qui Anche perché non so come si torna indietro Ferre no Vai Vai Ma dai ma contano le 25 vite Ma non è possibile E mi sembra pure stra difficile Sì Vero? Rispetta a quello che stavamo facendo Sembra molto peggio Infatti sono già caduta E ti avviso Ok Che conta nelle 25 vite Sei caduta Non voglio però Perdere la vita così Ferre Eh vabbè che ti devo dire E poi vuoi farla adesso Cioè mi vuoi far perdere 5 di vite Non una Vabbè sì è qui Quando lo vuoi fare altrimenti È impazzita Ferre Di solito non le piace fare le cose difficili E oggi mi è impazzita No vabbè se tu facciamo tutte le cose complicate Adesso le facciamo Ferre Addio Io me lo faccio senza di te Uff andiamo dai Da brava Stai attenta eh Mamma quanti Oh stavo ricadendo di già Guarda mi sono incastrato in mezzo tra due È impossibile Ferre Perché mi è saltata all'indietro Salta Calma Calmi tutti qui Calmi tutti Ok Non è possibile Ok ci siamo Ferre Ti prego Perché siamo qui Vattene se hai paura Vattene Sì mi ha paura Ucciditi e torna indietro Non posso tornare indietro Non voglio altre morti nella mia fedina Perché è stra difficile Cileno è possibile Perché salta troppo Lo so Per questi Per questi salti minuscoli Salta troppo Uff No ce la devo fare Ma poi corre strano Sopra sto posto Sì 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 Non so se è la mia gamba di legno Che mi aggiunge penalità Però sto avendo delle difficoltà Davvero impensabili E poi quanto ma No Ferre guarda Te ne pentirei di essere venuta qui dentro Io te lo dico È davvero una tortura cinese Mi devo prendere una pausa Aspetta Ok Dammi 30 secondi Per diciamo riprendermi Perché è davvero difficile qua Ma cosa ne ho pensato Nello specifico Io spero che il bonus Mi dia una cosa per volare Per superare tutti gli altri livelli Perché altrimenti Non è Va Uff Ok Mi sono visto morto Mi sono visto morto Ma quanto dura ancora Io sto saltando No ti prego personaggio Perché salti strano Che problemi strani hai Eh vabbè Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Lì dentro Quindi io Avevo di nuovo 25 vite Tu mi sa che eri a 22 Vero Sì a 22 Prima del bonus Eri a 22 Ok Teniamoci il conto Più o meno in quel modo Perché per me Non abbiamo lo stesso Perché ho fatto il livello bonus Quindi stai zitto Ma ci hai messo una vita a farlo Allora non importa Allora non c'era un timer Prima di tutto Quindi ci potevi mettere Tutto il tempo che volevi Brutto disgraziato Ok Però ci sono cose strane qua Mi sa che Se cadiamo Allora è iniziato Abbastanza semplice Quindi ho detto Ma lei 25 vite Sono anche troppe Adesso è impossibile Ma che è sta roba Guarda Ci sono gli scalini È caduto Devo rifare tutto Tutti storti Almeno non si muore Ok No non si muore U eccolo che cade anche Steph Bravo così Steph Bravo 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 Ma dai Sì vabbè ma continua così No voi siete pazzi Fere Fere È una follia È davvero una follia questa mappa È bellissima Però è una follia No è quel pezzo dove c'è tutta la parte girata È impossibile E poi si ri No ce n'è ancora Basta Lasciatemi qui Non lo voglio più fare Almeno non si muore Quindi apprezzo la scelta Di non far morire Vabbè qua avresti perso tutte le vite È davvero troppo È davvero troppo È facile facile Sbagliare Dannazione Sto pezzo è ancora più fastidioso Però almeno se cadi qua Non devi riniziare Perché sei un po' più avanti Ok andiamo 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 Ok Qua si può morire Uno Due Ho rischiato tantissimo Tre È davanti da solo Io non continuo più Non devo morire Fere non fare i sacrifici Non continuo più Fai da brava e vieni Hai superato il bonus Non puoi non superare questo È il bonus però mi ha stancato un sacco Quindi non ho più le energie Per continuare Ma allora è presente da quanti sono davanti? No perché io sono ancora all'inizio Continuo a cadere Eh ok però Io non sono mai più ricaduto Da quando sto parlando Ok E non è ancora finito Esatto No dai È quello che ti volevo far capire Ho finito adesso con il livello 10 Vabbè Bravissima Ce l'ho fatta Finalmente Sto per mettermi a piangere Quanto era difficile Mamma mia Vero Perché ho dovuto fare questo Te l'ho detto che era complicatissimo Almeno presto che è diverso da qualsiasi parkour abbiamo mai fatto Perché mette queste meccaniche di fatto molto strane Ci sta mettendo alla prova Quindi sì Allora Ok 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 Perfetto Ho visto Steph volare di sotto Com'è possibile? Come hai fatto a cadere in sto salto? Hai sbattuto la testa o cosa? Praticamente Avevo il feeling Dall'avere appena raggiunto il checkpoint E quindi di essere sicuro Ma in sta mappa non esiste Perché non devi mai morire Lo so Mi dispiace Steph Dai muoviti Ti vedo no Fede ho rovinato tutto Lo so Ho rovinato tutto Ma per cavolo Almeno cadi in qualche parte difficile Non nelle Fede non ti ci mettere Ok Ok Ma perché fai ste cose? Lo sai che io muoio nei miei momenti più stupidi Perché mi sconcentro per un po' E crepo Quando invece è difficile Mi concentro e ci riesco Allora qui Da questa parte vero? Credo Ok No vabbè non è possibile Non è possibile Vieni Ferre Vieni che ti diverti un po' Dai da brava No Ok 11 E io continuo diritto Perché sono arrabbiatissimo In questo momento Vai 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 E sono super Oh mamma mia Ma che è sta mappa? Perché? Che bello il mondo Saliamo 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 Ed eccoci qua Ed è il 12 Ok È difficile ma veloce almeno questo pezzo Perfetto Continuiamo così Ok Mi sembra abbastanza sobrio Certo Sì sì bene così Ah queste scale sono impossibili eh Ok Ok Ce l'ho fatta Ok E adesso Verso Dove sei? Qui È un po' più avanti Ferre Drago Prova a saltare vai Uh bravo però Sembra che ti abbia Secondo me Conviene Fare così No Ferre è impossibile sto pezzo Ferre è impossibile sto pezzo Ferre è impossibile Io ho saltato a quello dopo direttamente Come hai fatto tu Esatto Ok 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 Brava 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 Ma che brava che stai diventando E ormai ci sto prendendo la mano Ok e siamo al 13 Sì 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 Qua Drago Ma lascialo in pace No sono caduto Dove? Nell'acqua No Ferre Basta insopportabile Ferre devi resistere forza Insopportabile basta Allora Opla 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 Comunque se c'è un altro bonus io lo farò Perché devo tornare a 25 te lo dico Siamo arrivati al checkpoint numero 14 Che è praticamente metà mappa E io direi che ci fermiamo così Ferre perché Secondo me iniziamo ad essere troppo stanchi E rischiamo di buttare via tutto quello che stiamo facendo di bene nel mondo Io sicuramente guarda Tu sicuramente Dove devo andare adesso? Lì e ti butti nel ponte Ah ok Ottimo Ok ok Mi prendo almeno il checkpoint così Guarda che da quando hai fatto il bonus Io ho perso una vita E tu hai perso una vita Sì Sì Siamo abbastanza pari Sì andando bene Da quando ti sei abituata al diciamo al tipo di salti Sta andando davvero bene Sì bisogna abituarsi a questo personaggio un po' strano Esatto In ogni caso ci fermiamo così Sondaggino Commenti e like se volete la seconda parte Altrimenti sarà stata Un'avventura da diciamo Una sola volta Dove cercavamo di non morire Speriamo comunque che la mappa vi sia piaciuta A noi è piaciuta tantissimo E ci fermiamo così Guarda che se vi piace così Ciao ciao Sciendeteci un like E se è la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao